Siamo con Cristiano Massari, direttore del centro recreativo Il Cral di Monticelli. Una giornata di sport, di divertimento, di integrazione, dove i ragazzi provano tanti sport. Sì, siamo al circolo sportivo della Fondazione Carisap. Sì, è una giornata di sport integrato, dove ragazzi con disabilità e ragazzi normodotati si sfidano, ma non è una competizione, è un condividere, è uno stare insieme, è uno stare uniti. Quest'anno abbiamo avuto l'introduzione di tante nuove discipline sportive, perché oltre ai classici calcio, volley, basket, abbiamo introdotto il tiro con l'arco, il ping pong e c'è anche una novità assoluta, di cui sono molto felice e orgoglioso, è il welcher hockey, cioè l'hockey sulla carrozzina. Tutti i ragazzi competono in tutte le discipline, si sfideranno in tornei di 20 minuti e ognuno potrà provare, mettersi alla prova, sfidare se stesso, i propri limiti, le proprie capacità. In nome dell'amicizia, della condivisione, ed è per fortuna ancora una bella giornata, rischiavamo il temporale, invece siamo stati fortunati. Io volevo ringraziare poi tutte le associazioni sportive che hanno partecipato, l'elenco brevemente, le querce che si occupa di volley, la casa di Asterione che ha organizzato le attività circensi, gli arcieri piceni per il tiro con l'arco, la borgosolestà che si occupa di calcetto e calciotto, abbiamo poi gli amici disparati che è un'associazione che fa basket, c'è anche un'associazione di fermo, la scuola calcio Montepacini, ecco tutte queste realtà si sono, e Mirmidoni, Mirmidoni, l'associazione Mirmidoni che è quella che fa il welcher hockey. Tutti insieme per questa giornata di sport, una giornata di sport giunta alla terza edizione. e per me veramente è una grande soddisfazione vedere tutti questi atleti insieme in modo unico, solidale, unito, dove non ci sono differenze.